salve a tutti allora stasera vi voglio parlare di un ultimo libro che ho appena letto si tratta di The Duchess's Dear Duchess's Dear di Tessadère vengo da un periodo un po' così così quindi avevo bisogno di qualcosa di leggero e semplice come lettura e quindi sono andata sul romance che avevo abbandonato da un po' di tempo ultimamente e mi è capitato questo romance dalla trama abbastanza semplice e l'ho colto al volo perché mi attirava proprio per la semplicità e devo dire che mi è piaciuto allora partiamo col dire che The Duchess's Dear essendo semplice non stupisce e non ha una trama particolarmente complicata quindi non ci sono spie misteri da risolvere nemici da conquistare ostacoli da sormontare no quindi se vi piacciono queste cose state nella lalla è ironico molto e trovo che prendo molto in giro i genere romance pur facendone parte ed è una cosa che mi piace ma non troppo cioè non cade proprio proprio nella farsa quasi ma si tiene appena appena sulla riga la trama è abbastanza classica abbiamo un un eroe di guerra o meglio un soldato che è stato ferito in guerra che però in questo caso è un duca allora questo duca gli è praticamente esplosa una granata quasi in faccia quindi metà del suo volto è completamente sfigurato mentre l'altra metà è ancora sana e quando lui era prima dell'incidente lui era molto bello quindi il contrasto tra la bellezza di un lato nella faccia e la bruttezza dell'altro lato per contrasto la parte brutta risulta ancora più grottesca proprio perché dal lato c'è la parte bella e poi ha diversi cicatrici anche lungo il corpo rimessosi dall'incidente questo duca torna a casa lui aveva una una promessa sposa perché le loro due famiglie avevano già accordato e questa promessa sposa dice che non può sposare un uomo del genere al che ho pensato era impossibile che abbia veramente rifiutato di sposarlo perché dio santo è un duca sposeresti anche un duca di 90 anni quindi anche se è un po' messo male esteticamente non è molto credibile che questa aquila abbia rifiutato e infatti durante il libro scopriremo che non è così è lui che ha deciso di non sposarla più perché lei gli ha detto io ti sposo solo se avremo rapporti al buio in modo che non ti possa vedere perché sei troppo brutto e una volta che ti darò un erede io me ne vado a stare in campagna e non ti voglio più vedere mai più nella mia vita lui ha detto col cavolo ho ancora un minimo di dignità ce l'ho vai pure caro anche questa qui aveva già ordinato un abito da sposa orrendo tra l'altro e la povera sarta che gli aveva fatto questo abito da sposa si ritrova che questa qui non la vuole più pagare perché l'abito non le serve più glielo lascia lì e siccome non lo viene a ritirare e lei è nobile non è che la sarta può andare da lei a insistere che la paghi comunque per il lavoro fatto così questa sarta che è non di basse origini perché è figlia di un vicario di un paesino inglese quindi comunque è letterata insomma è una gentil donna anche se non è nobile e quindi ha abbastanza ego e abbastanza coraggio a dire io vado dal duca che ha mandato a monte il matrimonio e chiedo a lui se mi può pagare perché io sennò non mangio per fargli vedere il suo lavoro indossa l'abito da sposa e va da lui e ci va proprio la sera in cui lui è raggiunto alla conclusione che comunque si è andata e comunque lui si è rimasto deluso dal comportamento della donna che avrebbe dovuto sposare eccetera lui comunque si deve sposare perché un'erede deve darlo al ducato e proprio mentre sta scrivendo al suo uomo di fiducia che magari gli dia un elenco di donne che potrebbero essere delle papabili spose arriva il suo maggiordomo a dirgli c'è una ragazza in abito da sposa che vuole vederla e lui dice cavolo giusto giusto appuntino e questa qui arriva è carina vede che comunque ha un certo grado di istruzione eccetera e le propone senti ho bisogno di sposarmi se vuoi ti pago ma ti offro di sposarmi che secondo me è meglio che non essere pagata e lei crede che la prenda in giro e se ne va indignata indignata naturalmente ripensa alla proposta perché comunque Dio Santo non ricapiterà mai più che un duca le offra di essere sua moglie certo suppone che lui intendesse più che altro farla alla sua amante più che sua moglie però comunque un ciccinino di dubbio ce l'ha nel frattempo una delle sue clienti abituali le rivela che è incinta e che ha paura che suo padre la scaccerà di casa se lo scoprirà questa sarta vuole cercare di aiutare questa ragazza perché si immedesima in lei e in qualcosa che l'ha spinta a fuggire di casa quando aveva 16 anni che a questo punto non conosciamo ancora ma che possiamo intuire e proprio quando è lì che dice cavolo vorrei aiutarle eccetera il duca si fa vivo lì nel negozio e le rifà la sua proposta un po' più seriamente lei avendoci pensato su e volendo aiutare questa ragazza sa che se fosse una duchessa potrebbe aiutarla e poi parlando anche con lui un attimo insomma il fatto sta chi accetta perché cavolo cioè lei è una povera sarta questo qua ti offre ricchezza e tutto il resto eccetera si è un matrimonio di convenienza perché lui pone alcuni paletti ma comunque tu ci stai perché cavolo ti cambia la vita mica sei scemo no? allora si sposano senza pompa magno o altro e il patto è questo praticamente lui non vuole che nascano sentimenti tra di loro eccetera perché è già stato abbastanza ferito e quindi dice ci vedremo solo di notte al buio faremo quello che dobbiamo fare finché mi rimarrà incinta quando mi rimarrà incinta potrai andare in campagna ti regalerò la mia tenuta di campagna e tirerai lassù nostro figlio e tutti saremo felici e contenti lei dice va bene ho accettato di sposarti ma Dio Santo voglio qualcosa di più da un matrimonio quindi tutte le sere ceneremo assieme e faremo conversazione e in più con me viene anche il mio gatto questo è il patto che stipulano e qui potete capire comunque l'ironia dell'autrice nel fare un po' il verso ai tutti i matrimoni di convenienza che si sono nei romance e questi due quindi fanno questo accordo e la prima sera quindi c'è la cena lui tenta di consumare il matrimonio ma al buio trovare il letto già diventa un po' difficile poi lei per un trauma che ha avuto quando è scappata di casa che è rimasta semi congelata soffre il freddo quindi era sotto 5 o 6 coperte lui non riusciva neanche a trovarle il corpo al buio e in più c'è stato di mezzo il gatto che lo ha azzannato e quindi la prima notte va un po' così un po' così in farsa e in nulla di fatto la seconda notte e seconda cena va leggermente meglio e comunque pian pianino i due imparano a conoscersi perché comunque lui ha messo questi paletti ma non è che proprio è odioso 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 è un po' scontroso ma alla fine se c'è da parlare si parlano se c'è da flirtare flirtano normalmente perché lui è umano lei è l'unica persona a sua disposizione che inoltre si vede che non lo schifano nonostante l'aspetto poi quando vanno a letto ci sta senza problemi anzi è abbastanza appassionale tutto il resto quindi c'è lui è logico che si affeziona lei si affeziona perché comunque vede che lui è protettivo e ci tiene a lei poi scopre che di notte lui va in giro per Mayfair a salvare gattini o bambini a far paura ai delinquenti ai suoi hobby diciamo e questo è un modo dell'autrice di fare un po' il verso ai giustizieri della notte dei Romans perché dopo lui acquisirà un aiutante un ragazzino di 12 anni che è carinissimo che 007 gli fa un baffo vabbè non siamo nell'epoca giusta ma perdonate questa similitudine quindi veramente è un po' una presa in giro degli eroi della notte e comunque scopre diverse cose poi comunque lei si affeziona in più ci sono i domestici di lui che fanno a gara per fare in modo che si avvicinino e anche parlano con lei le dicono guarda noi non ne possiamo più sono due anni che stiamo chiusi in casa con sta depressione e la sua depressione del duca rende depressi anche noi finalmente ti ha sposato e ti santo fanno innamorare fa qualcosa e quindi li aiutano tipo li abbandonano per la strada insieme perché vogliono che dormono insieme insomma fanno diverse cose niente di troppo estremo e non si devono neanche sforzare più di tanto perché quando finalmente lui si ammorbidisce un po' e cominciano a fare l'amore anche di giorno oltre che di notte insomma i due si piacciono si piacciono ma è palese oltre a questo lei però deve presentare il duca al padre della ragazza incinta che vuole aiutare perché se vuole convincerlo a lasciare che questa ragazza vada in campagna con lei in modo che possa tenere nascosta la gravidanza bisogna che conoscono chi è lei e chi è il duca e quindi bisogna che escano socialmente andare a un ballo andare a teatro eccetera non gli rivela proprio il motivo per cui vuole uscire in società però il duca a un certo punto si lascia convincere e finalmente vanno a teatro la roba non va come sperato perché guarda caso incontrano la sua ex promessa che parla con Emma la ex sarta e le dice guarda che ti ha sposata e ti ha portata qui stasera solo perché sapeva che c'ero qui io e solo per far rabbia a me Emma in un momento di sicurezza eccetera ci crede quindi non crede che il duca voglia veramente bene a lei ma che sia stato fatto tutto solo per fare uno sgarbo all'altra e che quindi vuole più bene all'altra e scappa via e qui sarebbe la presa in giro del big misunderstanding che c'è in tanti romance in realtà il duca dopo la rincorre subito e la costringe a parlare e gli spiega subito guarda che non è così cioè vabbè ce l'ho su con quella là perché è vero che tenevo quella là e ho accettato che lei dicesse che mi aveva lasciato lei e non io perché comunque ci tenevo a lei però io dopo ti ho sposato perché dovevo sposarmi e comunque ho capito subito che tu eri migliore insomma si spiegano e lei ci crede subito e dice sono stata una stupida a mettere in dubbio la roba e quindi il big misunderstanding si sgonfia subito perché perché parlano semplicemente niente di che e quindi dopo c'è un altro piccolo casino perché essendo fuggiti di notte lui essendo per tutti il mostro di MyFair anche se non l'hanno mai visto perché si mette il cappello eccetera hanno riconosciuto che era lui quello che rincorreva questa donna vestita di rosso che poi era era sua moglie e pensano che il mostro di di MyFair che non è visto come eroe perché avendo cioè non l'hanno riconosciuto non sanno chi è il mostro di MyFair non sanno chi è lui però sanno che ha un aspetto un po' mostruoso quindi anche qui non ho capito come fa a non sapere che lui pensano che sia una persona cattiva questo mostro di MyFair un delinquente eccetera e adesso lo accusano di omicidio di una donna che però la donna non è uccisa perché non è stata uccisa quella donna era sua moglie tutto eccetera però Emma e qui lui dice scusa ah sì quando scappano dal teatro poi è tardi e fa freddo siccome Emma soffre molto il freddo dice guarda non andiamo fino alla carrozza e dopo torniamo fino a casa andiamo in una taverna qui passiamo la notte qui e domani mattina quando c'è più caldo andiamo via solo che la gente di MyFair scopre che lì c'è il fantomatico mostro e li assediano alla mattina quando si svegliano e arriva il suo aiutante dodicenne ad avvertirlo di questo fatto e che non possono uscire allo scoperto così altrimenti capiranno che è lui il duca il mostro di MyFair e lo arresteranno perché è già stata messa una taglia sulla sua testa al che il duca dice senti sono un duca non ho ucciso nessuno perché lei è mia moglie viva spieghiamogli tutto e finiamola lì no? che sarebbe una roba intelligente ma Emma fa no non si sa mai che ti arrestino intanto che gli spieghi che non gli spieghi ci sono troppe robe da spiegare non voglio che ti succeda niente usciamo dalla porta sul retro mentre il tuo apprendista che fa si finge e li distrae e fanno così e funziona vabbè tornano a casa eccetera e tra una roba e l'altra scoprono che Emma finalmente è incinta mi risparmio diverse scene d'amore tra una cosa e l'altra che tra l'altro sono anche carine il gattino che era ferale tra l'altro si è già affezionato anche al duca e gli fa le accuse insomma tutte cose molto carine e romantiche finché succede il il secondo big misunderstanding che Emma rivela al al duca che vuole aiutare questa ragazza che è incinta il duca sa già a questo punto cosa era successo ad Emma in passato lei si era innamorata di un figlio dello square del paese e aveva fatto quello che doveva fare con lui e dopo lui non l'aveva voluta sposare anche perché suo padre si era presa con lei invece che con quello là costringendolo a fare la cosa onorevole e a sposarlo e l'aveva cacciata di casa nella notte al freddo in cielo e l'aveva perso per congelamento il mignolino del piede tra l'altro ci tengo a precisare questa cosa perché ne parlano a letto facendo la comparazione delle cicatrici e vince lui su questa mani basse e lo dice anche lui stesso scherzando perché è simpatico alla fine e gli piace anche giocare a come si chiama badminton badminton e ci sono scende scene anche per questo comunque molto divertente e il duca quando scopre questo dice ah allora non è vero che mi ami mi hai sposato perché volevi aiutare quella lì perché ti ricorda a te quando eri giovane era tutto quello che mi hai detto era una bugia insomma praticamente fa la stessa cosa che aveva fatto Emma poche sere prima Emma gli dice ma no pensaci un attimo lo sai che ti amo abbiamo passato tutte queste cose mi hai detto lui però è un po' incavorato un po' sbarellato e preso un po' dalla rabbia e dalla sua stessa insicurezza perché si è appena reso conto di essersi innamorato di lei e lei appena da poco dichiarato il suo amore è arrabbiato e dice guarda io stasera non ti accompagno a questo ballo che per te è così importante perché devi presentarti al padre di questa aiutarla io sto a casa se vuoi vai tu e quando dopo partorisci anche se non torni qui stai pure in campagna e non tornare più e mentre le dice si pente di aver detto queste parole ma ormai le ha dette e per paura non le rimanga lei ci rimane male e però va per aiutare questa ragazza al ballo il servitore il maggiordomo del duca dice ma sei cretino dopo tutto quello che abbiamo passato finalmente trovi una che ti ama che ti vuole che ti tratta bene che tiene a te e tutto il resto è incinta di tuo figlio e il resto finalmente siamo una casa felice e tu mi rovini tutto per una scematta lo sai anche tu che non è vero che non è stato tutta una bugia non ci credi neanche tu quindi vai Dio santo al ballo se no ti prendo arandellate letteralmente e il duca dice hai ragione vado lì succede un po' un quiproquo che però vi risparmio perché è una roba un po' stupida ma alla fine lui arriva al ballo e tutto si risolve per bene tutto è bene quel che finisce bene non voglio darvi altri particolari per non rovinarvi la sorpresa se volete leggere questo libro che è molto carino una menzione a parte due cose che non vi ho detto non vi ho detto che un'altra cosa carina che succede nel libro è che lui per far piacere a sua moglie però senza dirglielo va a trovare il padre di lei che l'aveva cacciata di casa anni e anni fa e ci va di notte travestito da diavolo per spaventarlo un'altra scena molto carina e quando lei lo scoprirà ne rimarrà molto toccata questo per dirvi che comunque la storia d'amore ha una sua evoluzione cioè non è proprio così immediata nonostante sia una roba un po' immediata però comunque c'è dopo una crescita dei sentimenti abbastanza realistica all'interno di un romance ecco quindi ci sta tutto le scene d'amore sono molto belle carine dolci ma anche un po' piccanti belle unica nota che per me è un po' stonato sono le tre amiche di Emma che le acquisisce praticamente un giorno le arriva un bigliettino da una vicina di casa perché il duca abita in una di quelle piazzette dei quartieri alti allora queste tre ragazze nobili che vivono assieme in un'altra casa di questa piazza hanno saputo dell'arrivo di Emma hanno detto se vuoi venirci a trovare e sì che non è una roba tanto normale per l'Inghilterra dell'epoca Regency non succedeva proprio così Emma ci va e con suo stesso stupore perché lei stessa dice io sono la figlia di un vicario e un ex sarta come possono delle nobili donne volere essere mie amiche eccetera invece queste tre ragazze sono molto strambe veramente una ha la mania degli animali raccoglie qualsiasi animale bisognoso e dopo non è che li liberi se li tiene tutti quindi ha qualsiasi tipo di animale possibile immaginabile ospita in casa sua e ospita anche queste sue due amiche una è una chimica cuoca e anche con una mente scientifica e l'altra è una ha una mente meccanica e di lavoro gira a caricare gli orologi della gente che è un hobby è una professione che non ho ben capito comunque ha una mente abbastanza anche lei scientifica e strana e sono tutte e tre strane però sono simpatiche e aiuteranno Emma marginalmente diciamo e sono personaggi talmente strambi che sono la cosa meno credibile del libro però probabilmente l'autrice l'ha messa perché saranno le protagoniste dei prossimi libri della serie perché questo è il primo libro di quella che sarà una serie e comunque sia pur nella loro stramberia siccome non le vediamo tanto non danno tanto fastidio ci può stare e vi consiglio di leggere questo libro se avete voglia di qualcosa di carino e semplice e io mi tarò gli occhi aperti per i prossimi romanzi della serie e purtroppo però è inedito in italiano quindi solo se sapete leggere in inglese potrete leggerlo è come vi avevo detto si intitola The Duchess Dial di Tessade alla prossima